La bellezza che insegui è un orizzonte che continua ad allontanarsi, perché serve a continuare a procedere. La 30 Testodale ha il carattere di Alfa Romeo e questo è il carattere che racchiude la tribù di Alfa. La 33 è prodotta in Italia, la produciamo insieme a Touring Superleggera, una carrozzeria, un coach builder che riprende lo spirito del coach builder della tradizione decennale che Alfa Romeo ha con i carrozzieri italiani e che li proietta in un nuovo futuro, insieme in maniera vincente. Ogni singolo dettaglio della vettura è stato disegnato, concepito, prodotto e messo insieme in Italia. E la macchina parla italiano, i dettagli agli interni sono in italiano, le parole sono in italiano. Ovviamente lo sforzo, il risultato di chi l'ha pensata, disegnata, concepita e costruita, ma rappresenta anche tutto lo spirito senza il quale non avremmo questo oggetto fantastico oggi. Indispensabile, perché di questo sognare è la bellezza stessa.